Io sono... cerco di trovare qualcosa che sia più di felice, felicissima. Gioia Bartali, 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 Bartali nipote di Gino Bartali, benvenuta. Qua ritentavo di trovare frasi e modi ma alla fine insomma siamo qui. Quindi anzi lei ci ha raggiunto dopo un viaggio molto lungo e molto difficile. E allora qui viene da dire quanta strada nei miei sandali. Dobbiamo farlo, dobbiamo dirlo Matteo Forino, Gino Bartali. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste, come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai. Dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Gino Bartali scomparso il 5 maggio del 2000, ma scomparso solo fisicamente perché Gino Bartali è Bartali e non scomparirà mai dai nostri cuori, dalla memoria. Dalla certezza, Gioia, e lei è qui gentilmente per raccontarcelo, di essere stato un campione sulla strada, sulla pista e nella vita. Che nonno era? Ma mio nonno, vabbè, ultimamente mi capita spesso di parlarne perché in realtà quello di cui abbiamo bisogno tutti è sempre di un buon esempio. E mio nonno, devo dire che negli ultimi mesi, ha dimostrato chiaramente di aver avuto una grandissima umanità. Un grandissimo rispetto per le altre persone, soprattutto grazie a questa storia legata al periodo della guerra, sicuramente un grande coraggio. Un grande coraggio che porta nel 2006 il Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi, a consegnare alla amatissima moglie Adriana. Adriana Bartali e Gino Bartali si sono amati tutta la vita e oltre. La medaglia d'oro al valore civile per Gino Bartali, per quello che Bartali ha fatto in Seconda Guerra Mondiale. Dichiarato giusto tra le nazioni da parte di Israele perché? Perché Gino Bartali salvò la vita a tanti, tantissimi ebrei. Io con grande commozione faccio vedere questo libro, Andrea Bartali, intanto vediamo questa foto di famiglia del papà di Gioia, con la nonna e con i due figli. Ma questo è il libro che Andrea Bartali, che io ho avuto il grande onore di intervistare qui a TV 2000, tanti anni fa, ha dedicato al papà. Un amore familiare, un legame tra voi più forte, più tenace della catena di una bicicletta? Sì, ma indubbiamente il valore della famiglia per mio nonno è stato uno dei valori più importanti, probabilmente più del suo successo sportivo. Lui amava profondamente la moglie, ha avuto un legame, una storia d'amore meravigliosa, dimostrato da tantissimi momenti bellissimi, vissuti in famiglia. Un amore che poi ha trasmesso chiaramente alla famiglia e diceva sempre che sarebbe voluto essere un esempio per i figli, per i nipoti. E indubbiamente oggi se sono qui è perché sono molto orgogliosa di lui e ci tengo a continuare a valorare la sua memoria, veramente. Gioia, mentre questa foto inedita in tandem, voglio dire, buona pace per la signora Adriana, giustamente andava dietro, perché se c'era Bartali era meglio che guidasse lui. Voglio dire, un uomo tra l'altro con una forza fisica, un talento e una capacità a sapere essere campione, rara, veramente rara. Ricordare oggi Gino Bartali, e quindi qui sta il suo impegno, che cosa vuol dire? Ma indubbiamente adesso io sono molto attiva in questo momento anche e soprattutto con le scuole e con i ragazzi, perché sicuramente la sua storia è una bellissima storia. Sono stati scritti tantissimi libri su di lui, ne stanno scrivendo ancora e io ovviamente ho sempre piacere di parlare di mio papà, perché comunque lui era il figlio, per cui era proprio la persona diretta, no? Quindi in questo racconto ci sono anche degli aneddoti familiari riservati, insomma, belli da raccontare. Me ne racconta uno? Solo uno? Poi dopo leggiamo tutti il libro. Intanto questa è lei in braccio al suo papà? Sì, questa sono io. Mi dicono tutti, avevo già uno sguardo da birbante. Lo sguardo da birba? Da birba, sì. Mi racconti un aneddoto del papà? Allora, il libro è fatto di tanti momenti della vita. A me piace molto, chiaramente, il periodo dedicato alla storia degli ebrei, però c'è la parte iniziale che parla invece del Gino Bartali bambino, quindi un ragazzo comunque che appartiene a una famiglia semplice, povera. Mi piace molto raccontare della sua prima bicicletta, che è stata una bicicletta usata, comprata con grandissimo sacrificio da parte dei genitori per farlo andare a scuola. A quel tempo le biciclette ovviamente non erano quelle di oggi ed era così pesante, ma così pesante che mio nonno la chiamava il cancello, il suo cancello. E con questa bici lui ha incominciato ad andare a scuola ed è bello immaginarlo così, insomma, con i suoi chilometri, era sempre felicissimo di fare tutta questa strada. Ricordiamo anche che Gino Bartali perse il suo fratello, al quale non solo teneva con amore come sanno fare i fratelli, ma riteneva che fosse più bravo di lui in bicicletta. Sì, lui diceva sempre che era più forte, era di due anni più piccolo, quindi sono cresciuti insieme e hanno vissuto insieme soprattutto le prime vittorie di mio nonno, ma lui gli stava dietro, insomma, con le categorie più piccole. In realtà lui diceva sempre che sarebbero arrivati a correre comunque insieme, una volta vinceva lui, una volta il fratello. Invece purtroppo la vita l'ha tolto, poi tra l'altro durante una corsa, quindi lui, mio nonno, a seguito della morte del fratello, si sentì terribilmente in colpa perché in qualche modo credo che si sia sentito un po' quello che l'aveva spinto a praticare questo sport e al punto che decise in quel momento, era nel 1936, decise appunto di lasciare il ciclismo. Lui aveva tra l'altro vinto il suo primo Giro d'Italia e dopo 15 giorni è morto il fratello, quindi è passato da un momento di straordinaria gioia e di festa al paese a un grandissimo dolore. Voglio ricordare anche, mi viene in mente Fabio Casartelli che morì su strada, ma morì dopo aver vinto, molto dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona. Cioè i ciclisti fanno un lavoro serse coppi, altro fratello di un grande campione che morì anche lui dopo una gara. Sapete dove forse viene da pensare che Giulio e Gino Barteri non si siano mai veramente separati, i due fratelli, perché lui era il doppio di tutto. Allora io ho maturato in questi mesi, soprattutto conoscendolo ancora di più e soprattutto conoscendo l'aspetto della sua fede che comunque io ritengo sia stato il motore principale. L'ho conosciuto tra l'altro attraverso una corrispondenza che mia nonna ha conservato per tantissimi anni. Erano queste lettere che mio nonno praticamente le spediva ogni volta che era fuori per le corse. Quindi da quando erano fidanzati, dal 38 fino alla fine degli anni 40, perché poi lei le ha conservate tutte. E io ho incominciato a leggerle e devo dire che forse posso essere veramente quasi certa di conoscerlo molto meglio adesso di prima. Perché io adesso ho approfondito l'aspetto umano di mio nonno. Prima per me è stata una grandissima persona, lui mia nonna, il contesto familiare, però l'ho vissuto espressamente come nipote. Io non ho mai fatto attività, anche perché dopo la scomparsa del nonno è stato poi mio padre quello che in qualche modo ha rappresentato la sua figura. E' scomparso mio papà in occasione di quest'anno, proprio in occasione di questo Giro d'Italia. Mi sono ritrovata un po' quasi così per caso a fare questo tipo di rappresentanza, ma assolutamente ne sono onorata e fiera e soprattutto alle volte mi chiedo se sono all'altezza. Perché comunque parlare di un personaggio come mio nonno significa tante cose. Però Gioia mi ascolti, sì, vado avanti, però poi le dico una cosa. Lei è all'altezza. Per il solo fatto di aver fatto, macinato, chilometri, difficoltà per essere fin qui. Per non aver detto, scusate signori, non posso arrivare. Per la forza che lei porta dentro. Lei ci sta facendo un regalo oggi, lo sa. Nel senso che noi siamo molto felici. Poi io mi commuovo, quindi... Va bene, ha licenza anche di commuoversi. Guardi, può farlo? Lei è Bartali. Lei è Bartali. Io ho davanti Bartali, capisce? E questa... Ecco, oltre al fatto che qua la vediamo con il nonno e la nonna, quindi più Bartali di così, mi scusi. Eh, non riesco a immaginarla. E lei dice giustamente... Lo conosco più ora che ne leggo le lettere magari di quanto non mi sia capitato nella vita. Allora, ho avuto il privilegio di conoscerlo nella sua intimità. E in famiglia era una persona straordinaria. Cioè, io ho abitato anche con loro un anno insieme a mia sorella. Ecco, questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme. E ho avuto questo grande privilegio. Io lo considero così. La verità è che poi in realtà tramite anche altre persone che mi hanno testimoniato tante sfumature che io non conoscevo tramite il libro anche di mio padre, soprattutto, ho conosciuto l'aspetto veramente umano. Cioè, quello che secondo me mi ha fatto comunque concretizzare quello che è stato un po' anche il suo progetto di vita, no? Qual era l'aspetto umano più bello del nonno? Ma, io ricordo una volta mi disse ricordati... Ma in un discorso poi che comunque in un certo momento esce fuori con questa frase mi disse ricordati Gioia che nella vita bisogna essere umili. Sicché io ho detto vabbè, ascolta, ci sta. Perché comunque è una di quelle bisogna essere buoni, bisogna essere... Invece no. Io so che cosa significava per lui il concetto dell'umiltà. Lui ha veramente praticato la sua umiltà quotidianamente. Lo ha fatto in tanti modi. La storia degli ebrei e del coraggio ne è uno di questi. Però ce ne sono tanti altri. Nel senso che lui è comunque stata una persona sempre a disposizione di tutti. Ha aiutato tutti. Banalmente dico una stupidaggine però io adesso abito nelle Marche in questo paese che si chiama Monte Granaro. Ci abito da diversi anni, sto benissimo. Sono 25 anni che lavoro in questa azienda grazie a mio nonno. Perché lo chiamai? Finita, diciamo, gli studi gli dissi nonno aiutami a cercare un lavoro. Mi chiamava Cirilletta. Dice Cirilletta non ti preoccupare. Dice che adesso in qualche modo ho tanti amici, ho tanti amici. Va bene. E infatti gli amici lui ce ne aveva tanti. Se non fosse che l'amico di Monte Granaro non era altro che il gregario di Coppi. Addirittura. Quindi la nipote di Bartali praticamente per assurdo ma io lo dico simpaticamente abita in un paese dove sono tutti per Coppi praticamente. perché tutti quanti che carina tutti quanti quando insomma mi conoscono e mi presentano la nipote di Bartali tutti quanti mi fanno i complimenti ah sì sì piacere che onore tutto quanto suo nonno e dice però io ero per Coppi io ero per Coppi straordinario ho conosciuto tantissima gente è stato veramente un anno straordinario io le chiedo una cosa Gioia lei ha parlato dell'umiltà suo nonno oltre ad avere una fede incrollabile perché anche questo lo rendeva così caro era legato a Santa Teresa di Lisie sì no? la santa delle piccole cose del fare piccoli miracoli quotidiani attraverso il far bene piccole cose sì esatto ecco ritorna tutto no? è tutto un cerchio che si chiude perché lui era terziario carmelitano è un uomo che ha dedicato veramente un messaggio importante qui si vede anche la cappellina della Santa Teresina del bambino Gesù che aveva in casa lui ebbe una dispensa dal cardinale lì a Dallacosta anche gli giusto e quindi nel 37 dopo aver preso i voti da terziario fece questa cappellina in casa che io e mia sorella abbiamo deciso di portare ad aprile in occasione della tappa del giro al Vescovato al Museo della Memoria di Assisi e adesso è là ad Andrea Bartali grazie per essere stato figlio così e aver descritto così suo padre a gioia Bartali grazie perché me lo permetta ho avuto l'onore di conoscere sia il figlio il papà Andrea che il grande nonno guardi che più Bartali di lei non c'è nessuno continui così super 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 c'era un'ultima cosa che volevo dire che in qualche modo credo che rappresenti ancora di più perché comunque io lo vivo quotidianamente mio nonno c'era questa piccola cioè piccola corsa c'è questo bellissimo evento che sarà organizzato il 19 di maggio con partenza da Firenze fino a Assisi quindi la stessa strada che percorreva mio nonno per portare nella sua bicicletta questi documenti falsificati che hanno salvato tanti e lei e la cosa forse un po' bizzarra e ci rido su un po' quando la racconto è che io pedalerò i 180 km e sarò diciamo credo l'unica l'unica dei Bartali che dopo mio nonno speriamo di arrivare di non fare una brutta figura soprattutto non la farà gliel'avevo detto che lei è la più Bartali di tutti i Bartali chiudiamo su questo primo piano grazie a Gino Bartali ovunque sia sappiamo dov'è grazie l'ora solare noi ci vediamo un attimo gioia grazie